Un saluto ai telespettatori e agli utenti di TBS Channel, buonasera Taranto, continuo la carrellata di interviste ai personaggi e rappresentanti della provincia ionica, nell'ambito sociale, economico e produttivo, tutto in movimento, anche il sindacato e abbiamo gradito ospite Luigi Di Sabella, per dieci anni protagonista della CGL Ionica, ora ai vertici regionali della stessa CGL, segnatamente come coordinatore regionale della Filch Tem CGL, la confederazione che organizza i lavoratori del settore della chimica, del tessile, della gomma plastica, dell'energia e dei servizi ad alta rilevanza tecnologica come elettricità, acqua e gas. Dieci anni alla guida della CGL Ionica, diciamo sette come segretario generale e altri come componente della segreteria, un periodo non irrilevante nel quale si sono segnate tappe fondamentali per l'area ionica, quali in particolare, come ricostruire questo periodo? Ovviamente il pensiero va subito all'emergenza ambientale dell'ILVA, che ovviamente catalizza, anzi focalizza in maniera forte l'attenzione anche sul recente passato, ma in effetti essendo stato dirigente sindacale in questi ultimi dieci anni, da questa postazione così importante come quella della confederazione CGL, di passaggi nodali importanti per il nostro territorio, ce ne sono stati più di uno, basti pensare a quello che ha significato, e per cui diversi significa ancora, la vicenda del dissesto del Comune di Taranto. Vicenda del dissesto che a quell'epoca segnò in maniera cruda il fallimento e la degenerazione non solo dal punto di vista del fenomeno politico di questo territorio, ma complessivamente di relazioni tra le classi dirigenti e le relazioni sociali che evidentemente erano malate. I danni di quel dissesto in parte li abbiamo ancora pagati, ricordo che all'epoca ci fu un vero e proprio fuggi-fuggi dalle responsabilità, si distrusse praticamente tutta una rappresentanza politica e in quel caso, come in tanti casi della storia recente e non recente di questo territorio, il sindacato si trovò in prima fila, in trincea e dovette anche assumersi responsabilità che andavano oltre quelle di rappresentare veramente innanzitutto i lavoratori. Ricordo come partendo proprio dalla situazione molto difficile dei lavoratori del Comune, dei lavoratori delle partecipate, AMI, AMAT e dell'appalto, si mise in piedi un'avvertenza importante nei confronti del Governo che portò non solo a cercare di dare un fiato ai lavoratori, all'epoca si istituirono degli ammortizzatori sociali che possono essere definiti precursori degli ammortizzatori in derga, ma si ebbe un rapporto forte con il Governo, facendo le manifestazioni davanti a Palazzo Chigi e il Governo si occupò di Taranto, ci fu quel finanziamento importante che ha detto un contributo non di poco conto, ma ci fu anche un tavolo apposta per Taranto, coordinato tra l'altro allora da Enrico Letta e da allora, come in altre condizioni, varie fasi di crisi, di difficoltà sono state affrontate avendo in prima fila il sindacato. Penso anche alla vicenda dell'Arsenale, qualche anno dopo. Vicenda dell'Arsenale che in tono quasi minore ha ripercorso poi quello, o meglio ha preceduto ciò che è stata la vicenda Elba. Ricorderete che in quel periodo, dopo varie ispezioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si arrivò alla conclusione che c'erano molte difficoltà, molti adempimenti non messi in regola e si arrivò alla prospettiva effettiva di una possibile chiusura dell'Arsenale. Di lì una grande iniziativa dal sindacato, ma del territorio, dei parlamentari, ricordo le manifestazioni con le istituzioni al nostro fianco, e si trovò una strada che invece di subire quello che stava accadendo, cioè il depavoramento dell'Arsenale, mettesse in campo iniziative anche straordinarie, cioè interventi immediati e finanziamenti, perché quella lotta ebbe come sbocco l'ottenimento da parte del governo di finanziamenti, il famoso piano Brini che è tuttora in essere. Così come posso ricordare tutta la vicenda dei call center, in particolar modo di teleperformance, fondamentale per tanti aspetti, perché è stata una grande battaglia ancora in piedi per la lotta alla precarizzazione. Io ricordo quando si discuteva dei provvedimenti, dei confronti in un governo Prodi, si diceva ma che si fa, che non si fa per il precariato. Io ricordavo sempre in quei giorni come, grazie anche ad alcune iniziative legislative e le famose circolari Damiano e vi dicendo, noi arrivamo alla stabilizzazione, al rapporto di lavoro a tempo determinato di quasi duemila persone. Quindi rilindicammo come da quel lavoro che sembrava un lavoro marginale, transitorio, vi dicendo, invece si potesse fare anche un progetto più complessivo. Tant'è, l'abbiamo ripetuto in tante occasioni, ricordo che ne parlava anche la nostra segretaria generale Camusso in una trasmissione da Fazio, a stabilità lavorativa corrispose anche progetti di vita e nel giro di poco tempo da quelle persone nacquero non solo nuclei familiari ma anche centinaia di nuovi bambini e bambine. Poi arrivare alla vicenda, ma magari sul video ci parlerai in maniera più precisa e focalizzata, ma il trasmissione… Questo mi consente, un sindacato forte, un sindacato che è immediato, però c'è chi ha cercato di indebolire la funzione del sindacato in questi ultimi anni e si è parlato anche di una forma di demagogia che ha imperato negli ultimi tempi. Su questo aspetto sarebbe interessante, perché c'è stato un momento in cui la protesta ha imperato, forse ancora impera anche se di meno, però poi alla fine dei conti lei ricordava la vicenda Arsenale, la vicenda ILVA, la vicenda della Teleperformance e di altre aziende in cui il sindacato ha svolto un ruolo importante. Ecco, però oggi facciamo i conti anche con una situazione di incertezza come scenario locale. Perché secondo me? Naturalmente richiamavo prima il ruolo che il sindacato ha avuto sempre in questo territorio, e cioè, lo ribadisco, dall'avvertenza Tarano anche prima. Le iniziative per difendere il lavoro e i diritti dei lavoratori, il sindacato confederato a Taranto interamente l'ha sempre portato avanti, anche per costruire ipotesi di diversificazione e sviluppo del nostro territorio. Cito l'avvertenza Taranto, quando ci fu la disoccupazione di ritorno dopo il raddoppio dell'ILVA, la leva del bisogno di lavoro di migliaia di idili che rimanevano senza lavoro, fu fondamentale per conquistare importanti investimenti come quello del porto. Se oggi esiste il muolo polisettoriale grazie al lotto dei lavoratori di lì. E se oggi, con tutte le difficoltà che ci sono, magari poi ci ragioneremo su, ci sono centinaia di milioni di investimenti al porto e si sta contrastando la deriva per cui TCT se ne va e invece potrebbe tornare, anche perché lì la lotta dei lavoratori portuali ha fatto sì che ci fosse poi un accordo di programma a livello governativo per far taguardare investimenti. Ovviamente in questo ultimo periodo, per tanti motivi, perché è cambiata la società, c'è stato un cambio generazionale, è cambiato anche il modo di approcciarsi al sindacato e alla politica, il ruolo del sindacato ha avuto tanti elementi di diversità ma anche di indebolimento a carattere generale. Io voglio ricordare come in tante epoche, specialmente anche adesso, ci sono attacchi quasi ideologici al sindacato, basti pensare alle battute davvero molto, alcune volte, trucci che ci riserva il premio a Renzi, quindi se lo fa a Renzi figuriamoci gli altri. Quasi a mettere in discussione proprio questo ruolo, il ruolo di un sindacato confederale che ha tra virgolette l'ambizione della pretesa di dire non solo difendiamo gli interessi dei lavoratori, ma vediamo se i lavoratori possono dire la loro anche sulle vicende più complessive. Quello che noto, quindi non è soltanto una questione tarantina, è che per molte parti della politica o di alcuni ceti o di alcune classi dirigenti c'è un'avversione a questo ruolo, c'è un'avversione al fatto che i lavoratori col sindacato, ma anche in politica, abbiano ruolo, abbiano voce, abbiano influenza, quasi a dire voi state nei nostri posti di lavoro e non vi occupate di altro. Io credo che il tratto comune che oserei dire di classe, che tante volte ho notato essere presente anche in questa città, ha questo. Poi alcune volte ovviamente incrocia con altri fenomeni, come l'emergenza ambientale o altre, si incrociano solo lo stesso fenomeno e si arriva a un frullatore di vicende. La parola di vicende ambientale c'è stato un sindacato, ma non solo, c'è stata anche una parte importante della società civile, la stampa dell'economia che in questi anni ha lavorato mediando. Poi singoli episodi, parliamo di gossip, hanno quasi prevalso sull'impegno a tutto tondo che c'è stato e questo è forse un grande limite e alcune istituzioni da questo punto di vista non hanno aiutato forse chi ha esercitato questo ruolo in questi anni. Sì, sì, è un fenomeno molto complesso. Io intanto voglio ricordare alcuni fatti. Sì, noi siamo abituati a ragionare sulla vicenda dello scoppio dell'emergenza ambientale a partire dai provvedimenti della magistratura, il 26 luglio 2012, siamo fra poco al compleanno, due anni. Ma io voglio ricordare che quando nel 2008 e nel 2009 ci furono le manifestazioni di alta marea, la Cigella stava in quelle manifestazioni, aderì, partecipò. Non eravamo d'accordo sul 100% delle richieste. Però eravamo d'accordo a portare avanti un'iniziativa che dicesse che siamo per mettere in campo tutto il possibile per ambientalizzare le fabbriche e fare in modo che i danni sicuramente pesanti che sono stati apportati alla salute e all'ambiente di questo territorio siano sanati. Per noi l'elemento di limite era, ovviamente, immaginiamo di fare tutto ciò non chiudendo le fabbriche ma risenandole. Parlo sempre di periodi antecedenti allo scopo dell'emergenza con i sequestri da parte della magistratura. Quando ci fu la battaglia aspra sulla legge sulla diossina o qualche tempo dopo sulle questioni che riguardavano il Benzapirene, per quanto ci riguarda in maniera più netta forse di altri, ma noi prendiamo una posizione netta e fu tutt'altro che una posizione conciliante con l'atteggiamento dell'ILVA. Fu una posizione che appoggiava in maniera netta le iniziative della Regione che portava avanti queste parti. Ricordo come quando ci fu la conferenza stampa in cui si presentava la legge sulla diossina che fu fortemente contrastata dall'ILVA, al Comune di Tano c'era il Sindaco, il Presidente della Provincia, e i segretari di FIM, FIM e Wilma. Quindi quando si è trattato di fare una battaglia per il miglioramento ambientale, noi la parte l'abbiamo scelta in maniera netta. Ovviamente il problema qual è? Che non avevamo cognizione, evidentemente avevamo sottovalutato, che quel percorso che avevamo messo in campo, che immaginavamo anche importante di ambientalizzazione, in realtà non era adeguato alla situazione data. Questo abbiamo preso atto, abbiamo messo in riga anche la nostra impostazione, abbiamo detto se è così è, allora si intervenga subito, si faccia una novaia e si vada avanti su questo ambito. E sui rapporti contrastanti che hanno segnato l'ultima fase tra la CGL e la FIM, cosa ci vuol dire? Che guardi, come noto abbiamo una dialettica molto forte, l'abbiamo avuto a fasi alterni tra CGL e FIM su alcune questioni di fondo che riguardano le strategie contrattuali, avvertenziali. Ma viva Dio, posso dire che a livello territoriale i rapporti tra CGL e FIM, penso a questo gruppo dirigente, ma anche a quello che l'ha preceduto, facendo i conti del fatto che c'era e c'è una situazione così drammatica ed emergenziale, sono stati improntati all'intelligenza, se ne dire al buon senso, di innanzitutto concentrarsi sui problemi dei lavoratori piuttosto che accentuare la nostra dialettica. Quindi siamo un sindacato di viva Dio fortunatamente molto vario e legato in cui si discute, alcune volte anche in maniera animata, però quando poi dobbiamo ragionare su come sanno a guardare i diritti dei lavoratori non perdiamo tempo a discutere fra di noi. A proposito di ILVA e di Ambiente, in molti hanno accusato il sindacato, parte del sindacato, la CGL e altri attori della provincia Ionica in altri settori di essere se non corresponsabili addirittura conniventi. Con lei come risponde a questo ospite? Rispondo col fatto che ci sono i fatti che contano. Noi poco tempo fa abbiamo avuto una grande e importante sentenza da parte del Tribunale di Tarno sul processo per amianto proprio all'ILVA e voglio ricordare che non solo a FIOM si è costituita parte civile contro l'ILVA pubblica e privata, ma gran parte dei casi che sono stati portati per mettere in campo le prove sono stati patrocinati dal sindacato. Quindi noi da decenni denunciamo i problemi che riguardano la salute, la sicurezza dentro e fuori della fabbrica. Ciò che è inaccettabile è che si sia creato quasi un teorema in base al quale si è messo insieme quando ce ne erano responsabilità vere e dirette con qualsiasi impostazione culturale, politico, sindacale che fosse tra virgolette industriale o industrialista. Il fatto che il sindacato abbia difeso, difenda e difenderà sempre il lavoro e le indusse che vanno risanate non può essere assimilato da condiscendenze rispetto a atteggiamenti e opere di carattere illegale. Sarebbe come se, mi lasci dire, dopo l'esodo che si è avuto dalla vicenda del San Raffaele con Doverzee, se mettesse in campo tutto una baradana per cui tutti quelli che si sono sentiti con Doverzee auspicando che si facesse San Raffaele fossero stati tutti complici di un'operazione che poi abbiamo visto che è andata a finire. Sarebbe come dire mettere insieme atti, situazioni, presi di posizione politiche con invece altro e questo è inaccettabile. Rimanendo in tema ILVA c'è un decreto del governo, c'è il rischio che se non si mette mani a un provvedimento che consente la nomina di un commissario che si preoccupi e si diriga soltanto all'applicazione dell'AIA e si attinga alle risorse del sequestro e beni deriva, ecco c'è il rischio che si possa andare in liquidazione, qual è la sua posizione? Noi credo che su questo abbiamo una posizione abbastanza militare come un sindacale, ho visto anche altri ambiti, la società tarantina non solo hanno fatto critiche simili, stiamo fortemente preoccupati della inadeguatezza di questo provvedimento. Ovviamente c'è un provvedimento che cerca di sanare l'emergenza finanziaria con quest'operazione che faciliti per le banche a un prestito ponte, ma siamo perfettamente consapevoli che oltre a passare l'emergenza finanziaria di qualche mese il problema di fondo qual è? Di assicurare che si mantenga in piedi in maniera chiara e precisa il piano ambientale che è stato definito e che ci sia in maniera chiara e altrettanto precisa la copertura finanziaria che o deve essere fatta o è insieme, deve essere fatta con le risorse sequestrate in riva dalla procura di Milano, oppure anche, ci sono varie proposte messe in campo, con un intervento temporaneo parziale di capitale pubblico che assicuri la continuità di questa azienda. L'alternativa qual è? L'alternativa è tra avere un piano finanziario ambientale industriale di largo respiro che mette in campo la prospettiva di un'ilva risanata con gli attuali livelli produttivi occupazionali, oppure semplicemente un prestito ponte per poi vendere o svendere e affidare a chi verrà le decisioni sul destino del territorio. Noi diciamo che non bisogna arrivare davanti all'acquirente con l'acqua alla gola, perché con l'acqua alla gola si svende, non si fa nulla. Nella sua lettera di commiato da segretario generale, per il ruolo che ho svolto alcune cose non le ho dette, ci può dire cosa direbbe oggi? A cosa mi riferisco? A me in realtà, per la formazione anche culturale da cui vengo, la dialettica e la polemica appassiona. Però siccome in questo territorio uno dei gravi problemi è l'accentuata risosità e divisione tra i soggetti, io ho sempre teso anche a mangiarmi qualche rospo, piuttosto che polemizzare con un interlocutore, quando mi rendevo conto che il problema era mettere insieme non solo i sindacati, ma le istituzioni, le parti sociali e fare in mondo che il territorio magari si presentasse in maniera unita e compatta di fronte al governo. Quindi tante volte ho sentito stupidaggini, ho fatto finta di non sentirle, tante volte avrei voluto accentuare di più il mio protagonismo, ma ne ho fatto a meno, ma ripeto, pensando che innanzitutto in questo territorio il problema non è primeggiare o fare le prime donne. In questo territorio il problema fondamentale per chiunque abbia grandi, piccole e medie responsabilità di classe dirigente è cercare di mettere insieme. E, come dicevo prima, il dissesto, l'assenare, il porto, le performance, vi dice, sono esempi di come, quando in questo territorio ha prevarso la compattezza, l'iniziativa specialmente spinta dai lavoratori, ci siamo fatti sentire e abbiamo portato a casa risultati per te. Due ultimissime domande, segretario. Lei va a ricoprire un ruolo in un settore molto importante che ci riporta, a proposito delle sue competenze, la vertenza Eini, che è la vertenza che riguarda la raffineria di Tara, il tropezzo importante, il progetto Tempa Rossa, come intende affrontare, come segretario regionale della FICSTEM, questo tema? Partendo dal fatto che, così come per la Sicilia, anche se si tratta di situazioni un po' più ampia, pensiamo al polo di Gela e del petrol chimico, anche in Puglia questa vicenda non può essere affidata soltanto all'iniziativa dei lavoratori. Le istituzioni, e quindi parlo del comune, parlo del comunitario, delle imprendisi, parlo della regione Puglia, quindi del Presidente, devono entrare in campo. Perché qui non si tratta soltanto di ragionare sulla deriva di un impianto, stiamo parlando del cambiamento proprio della natura di questo grande colosso che è l'Eni. L'Eni, che ha il 30% di partecipazione pubblica, deve continuare ad essere un grande asset strategico che in Italia fa industria, ricerca, sviluppo, occupazione, o semplicemente una grande multinazionale che se qui non ci guadagna tanto, disinvesteva solamente all'estero. Di questo si sta parlando. Perciò abbiamo detto che vogliamo discutere non solo con l'Eni ma con il governo e deve essere chiaro però, vale per l'Eni come per altre vicende, o il territorio, anche qui. Il territorio è compatto e va avanti, oppure noi rischiamo di essere messi in maniera marginale rispetto ad altri territori che si stanno già muovendo. Sul tempo rossa abbiamo già detto da tempo, come sindacato federale, che riteniamo importante che specialmente in questa fase gli investimenti che si possono catapultare sul territorio tarantino si facciano. È evidente che a Taranto è più che legittimo avere preoccupazioni all'arma rispetto agli impatti ambientali, però a noi risulta che sulle questioni che riguardano gli incidenti rilevanti alle direttive da Seveso, come su altri, i serbatori bilicenti si sono fatti già gli opportuni approfondimenti. E francamente, devo dire, ritengo davvero risibile il ragionamento per cui siccome vengono più navi questo potrebbe avere un impatto, dal momento che noi ci stiamo battendo al porto per avere non qualche decina di più, ma centinaia. Quindi l'impatto di nuove navi è evidentemente un problema che si deve risolvere. Creerebbe anche lavoro aggiunto di diversificazione. Noi ci stiamo battendo per avere investimenti al porto per avere più navi, non per avere più navi. Perché lavorano ad esempio le agenzie marittime locale? Che lavorino le agenzie, ovviamente, c'è un totto per tutto. Il tessile, mi perdono, il tessile è un altro settore importante, era un era, dico era, forse lo è ancora, un settore strategico, penso a Martina e alla ragionica occidentale. Come risollevare questo confatto? Il tessile era ed è, e quindi il tessile non può essere visto come un parente povero e antico. Perché c'è la concorrenza cinese? La concorrenza cinese c'è, ma per esempio in questo periodo, se si legge solo 24 ore, si vede come varie ricerche ciniche, ci sono anche processi in cui alcune aziende ritornano in Italia, perché il Made in Italy è importante. Quindi Martina è l'esempio di come tante imprese non ce l'hanno fatta e come altre imprese di qualità abbiano ottenuto il mercato e si sono andate avanti, puntando sull'innovazione, sulla qualità del prodotto, sul Made in Italy e anche sull'integrazione realizzazione. In un po', rifacendoci a teleperformance, battere la concorrenza sleare e incoraggiare qualità e quantità. Se ci riusciamo in questo territorio, parlo di livello regionale, di Firenze e di altri, non è partita veramente una logica di capacità distrettuale. Che eredità lascia l'Isabella alla CGL e cosa propone alla nuova dirigenza e che dirigenza avremo? Quello che posso dire è questo, noi ci siamo mossi per promuovere nel nostro sindacato una nuova generazione di ventenni, trentenni, quarantenni che delegati, dirigenti sindacali prendesse in mano la CGL. In questi anni, in tante vertenze difficili e importanti, quelle che citavo, la CGL è stata rappresentata da categorie rette da trentenni, ventenni, trentacinque anni. Ci abbiamo creduto, ci abbiamo investito e oggi possiamo dire che per quello che abbiamo fatto possiamo essere in grado di dare la CGL in mano a queste generazioni. Noi ringraziamo Luigi Di Sabella, segretario uscente della CGL di Taranto e provincia, nuovo coordinatore regionale della Filcetem CGL e diamo appuntamento ai nostri utenti e telespettatori alla prossima puntata con le interviste di TBS Channel. Grazie.